ok vai facciamo la prova arancio olè ci siamo siamo pronti per l'attrito ciao ragazzi benvenuti su un altro video di zero g siamo sempre qui all'off 92 per parlare oggi invece di attrito allora dobbiamo cominciare subito col dire che gli attriti sono ovunque e non si possono eliminare però iniziamo subito col dire che in realtà gli attriti sono di tre tipi diversi allora esiste quello che si chiama l'attrito radente ve lo scrivo qua così facciamo l'elenco allora l'attrito radente è quello che avete quando praticamente avete due oggetti che sfregano l'uno contro l'altro ma cercando di spostarsi di scivolare l'uno sull'altro e quindi qual è l'attrito radente per esempio questo se voi trascinate un oggetto sul bancone a parte il fare rumore però sta sicuramente facendo un tipo di attrito che è attrito radente quindi l'attrito è praticamente quella forza che sta cercando in qualche modo di opporsi al movimento dell'oggetto che si muove sul bancone l'attrito radente è molto vario nel senso che dipende ovviamente dai due materiali che entrano a contatto quindi in questo caso noi per esempio abbiamo la plastica che sta cercando di scivolare contro questa superficie di legno però è un attrito diverso radente se io faccio scivolare la stessa plastica di prima però su questa superficie che è tipo vetro e quarzo adesso non ti saprei dire un materiale molto strano ha un nome assurdo che non mi ricordo però se voi cambiate materiale per esempio adesso volessi fare attrito tra me e lo stesso legno di prima e beh l'attrito per esempio è già di più e si sente che di più anelli a parte che mi fanno scivolare le mani più del previsto però la pelle per esempio tende a fare attrito radente più rispetto ad altri oggetti lisci come potrebbero essere questi giustamente perché l'attrito radente a noi serve perché se io non avessi l'attrito radente diciamo se non creassi attrito radente con le mani non avrei nemmeno la possibilità di afferrare gli oggetti perché tenderebbero a scivolarmi dalle mani ok quindi l'attrito radente ci è utile e c'è praticamente tra qualsiasi cosa c'è attrito radente anche qua sotto in realtà se io sposto questa cosa sul sul banco di legno è il motivo per cui questo oggetto rimane fermo nonostante io magari l'idea anche delle spintarelle è perché c'è l'attrito che continuamente insiste e cerca di opporsi al movimento degli oggetti fino a farli fermare se effettivamente l'attrito ha la possibilità di rallentare le cose fino a farle fermare quindi questo è la prima tipologia di attrito sul quale poi bisognerebbe fare dei discorsi ma magari vi do appuntamento su un altro video sempre su questo canale per parlare un po meglio dell'attrito radente c'è invece un'altra tipologia di attrito che è l'attrito viscoso che cos'è invece l'attrito viscoso è quello che avete quando i corpi si muovono all'interno dei fluidi e vi ricordo che i fluidi sono tanto i liquidi quanto i gas quindi per esempio se nuotate in piscina o nuotate nel mare e voi state cercando di muovervi all'interno di un fluido quel fluido sta facendo resistenza cioè sta cercando di opporsi al vostro movimento all'interno di esso quel tipo di attrito lì si chiama attrito viscoso e ce l'avete con tutti i fluidi quindi ce l'avete anche in realtà normalmente quando vi muovete in aria se io faccio così sto cercando di muovere l'aria l'aria sta facendo resistenza poca perché ne fa davvero poca però sta facendo resistenza e questo tipo di attrito è un attrito viscoso ed è lo stesso attrito viscoso che avete per esempio quando viaggiate in macchina quando voi viaggiate in macchina state andando addosso all'aria l'aria vi crea attrito e questo di nuovo attrito viscoso che praticamente sta cercando di spingere la macchina indietro rispetto alla direzione del movimento ed è comunque sempre attrito viscoso perché l'aria è un fluido la cosa particolare dell'attrito viscoso è che diventa tanto più alto quanto più aumenta la velocità con cui i corpi si muovono all'interno dei fluidi quindi più nuotate velocemente più la macchina viaggia velocemente all'interno dell'aria più l'attrito si alza e diventa sempre più forte e sempre più intenso c'è ancora una terza tipologia di attrito che invece è ancora diverso ed è l'attrito volvente che cos'è invece l'attrito volvente? l'attrito volvente è quello che avete con gli oggetti che rotolano quindi per esempio quello che fanno i pneumatici delle auto sull'asfalto è un esempio di attrito volvente se no un altro esempio ve lo faccio vedere adesso che arriva e voilà è arrivato l'esempio questo è un oggetto rotondo ok allora se io lo trascino così e lo permetto alla buccia dell'arancia praticamente di sfregare contro la superficie del legno questo è attrito del primo tipo quindi attrito radente ma se io la stessa arancia la faccio rotolare così questo è diventato attrito volvente ed è diverso e tra l'altro penso che sia esperienza comune di tutti l'attrito volvente è minore rispetto all'attrito radente cioè è molto più facile far rotolare un oggetto così più piuttosto che farlo strisciare in questo modo si sente proprio che qua sotto l'attrito decisamente di più che si fa molta più fatica a trascinare l'arancio sul sul bancone piuttosto che a farlo rotolare ok quindi ci sono queste tre tipologie di attrito per ognuna di queste tipologie di attrito c'è una diversa formula perché l'attrito è fondamentalmente una forza quindi ci sono le formule per calcolare la forza di attrito radente la forza di attrito viscoso e la forza di attrito volvente sono formule diverse che però vanno applicate ognuna nel proprio contesto quindi se state parlando di automobile e volete calcolare l'attrito e beh dipende allora se state calcolando l'attrito per esempio tra la carrozzeria e l'aria attrito viscoso ha la sua legge se state parlando invece dell'attrito tra preumatici asfalto attrito volvente c'è la sua legge quindi bisogna di volta in volta utilizzare la legge giusta al momento giusto in base alla situazione che state cercando di trattare ok quindi questo è quanto vi dovevo dire sulle varie tipologie di attrito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito sempre a seguire tutte le prossime lezioni di fisica qua sul canale 0g da loft 92 è tutto ci vediamo alla prossima